Cerimonia interreligiosa olimpica nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi, alla presenza dei leader religiosi, del capo del CIO Thomas Bach e del presidente di Parigi 2024, Tony Nestanguet. Durante l'evento, Bach ha chiesto ai credenti di fare appello alla pace. La cerimonia è stata un omaggio al primo incontro interreligioso organizzato dal fondatore delle Olimpiadi Moderne, Pierre de Coubertin, cento anni fa a Parigi. L'evento fa seguito alle reazioni di alcuni leader religiosi di tutto il mondo che la scorsa settimana hanno contestato alcune scene della cerimonia di apertura. In molti hanno associato l'esibizione di un gruppo di drag queen all'ultima cena, ma la ricostruzione è stata smentita.